Torni in aula oggi il Consiglio regionale, ancora una volta ritardi sulla tabella di marcia. Il confronto acceso all'interno della maggioranza ha dilatato i tempi dell'attesa. In ballo la nomina degli uffici di presidenza delle commissioni, con Forza Italia a rimendicare la leadership dell'organo di vigilanza e il PD intenzionato a ribadire l'asse con il nuovo centrodestra. Tutto stabilito nelle segrete stanze per quel che concerne il ruolo di capogruppo. Sebi Romeo dovrebbe averla spuntata su Michelangelo Mirabello, la terza seduta della legislatura sarà incentrata tuttavia sulle linee guida del programma di governo che il governatore traccerà al cospetto dell'astronave. Si lavorerà ad una Calabria più coesa, operando per la crescita nel tentativo di superare ataviche contraddizioni figli di una cultura da seppellire in fretta. Sotto la lente di ingrandimento anche il potenziamento della stazione unica appaltante l'esame del provvedimento che propone di modificare il regolamento interno al Consiglio regionale.